Nelle ultime ore Grille Casaregione ha aderito al vostro appello per salvaguardare la Costituzione dalle riforme di Matteo Renzi. Cosa pensa di questa adesione? Io penso che mi fa molto piacere che ci sia una larga condivisione di quello che diciamo, anche perché questo dimostra come il rischio dell'involuzione autoritaria sia presente e sono contenta in particolare che lo condividano persone delle quali io ho avuto spesso l'impressione purtroppo che tendano a gestire in modo autoritario e padronale un movimento che ritengo assai interessante e in questo momento assai utile per il Paese. Spero che da parte loro sia la loro adesione al nostro appello e sia un modo di ripensare i rapporti interni al Movimento 5 Stelle. Questo mi rallegherebbe ancora di più.